Allora quant'anni avevi? Ha avuto Alessia 33 Avevo 33 Norma 21 Ho detto 26 Ma Norma abita sempre qua Adesso è in ferie in Germania E' a casa mia A Gonesa C'è una amica di C'è una amica di Sarà com'è pesce? Non è pesce è cato L'isolo il pesce, il pesce allora se qui ti pedono mangiare il rumato se è laureata ha fatto un periodo anche in America dov'è che insegna la figlia? la scuola inglese vuoi dopo dire se c'è una stanza come dire? tu devi mandare il moto per noi come? tu devi mandare Ma dove? San Ruggerici o l'altro? È come salire sull'aereo. Ormai ogni mese sono sull'aereo. E ci sono una fatica. Lei da Papa, la roba, la roba stava... Quella al volo, eh? Ormai che era il nonno, era il nonno. C'era il nonno tutto bene. E' un po' di te. Ma dove? Perché un po' di te. Ma dove? E' un po' di te. E' un po' di te. Ma che sopra? Se un po' di te la pizza... Ma dove? Lui a tornare... Non sapevo. Ma guarda... Ma guarda... Ma guarda... Ed è un po' di... Ma guarda... Il papà era un bugnale! Si è così. E' più niente! E' più niente! E' più niente! Gli asili svegliono qua! Si! C'è un po' cazzone! Com'era la prima con i ragazzini? Si è alzato così, piedi da terra, di fianco e caduto in terra! E lui ce la faceva sgombare! E' un po' c'è la volta c'era! E lui ce l'ha raputo! Gli aveva preso il piraffuno di Sticci! ... che si porta a ballare! ... di Scetorio. Non lo scelgo! E lui ce l'ha appreso il piraffuno di Sticci! Non lo scelgo! Sì, ci siamo abituti! Se non lo scelgo! Vanno spesso! Quelli che sono costruiti! ... che sono i palli della luce! il buco del naso non lo vedi per i fracati non lo vedi non lo vedi non lo vedi ti va a far sentire il pensiero io non lo vedi ma che senti? ma che senti? non lo vedi se sono le lingue per i nostri le mani anche la vostra è la montagna ma è ora che entra Se ne acconti si cresce? Dice se ne hai 40 anni. E poi si rimpiccionisce, e poi si rimpiccionisce poco a poco e si allarga, quindi c'è sempre il peso. No, aspetta. Dobbiamo dare 14,48 euro. Allora a me mi devi dare 50 euro, siamo pagi. 21,42 euro. Allora, la scala è bellissima. No, non è tondo uguale. Perché lo vedi da qua? Secondo me questo qui è più tondo. No, secondo me è lo stesso, però ho fotografato niente. Ci sta. Alla zona c'è scritto quello. Che c'è da contare? Oh, si si è arrabbiata di voler via. Dove va? Venti. Ti ha detto, la potevi fare quando stava facendo una dieta? Eh, potevo, ormai non potevo nulla. Ha detto di non lo vuole il prete. No, quando stava facendo... Grazie a tutti Grazie a tutti